L'enoturismo come risorsa per uno sviluppo sostenibile, l'enogastronomia come strumento per la valorizzazione del territorio. Anche quest'anno Menfi propone Inicon, la festa del vino più grande d'Italia, con i cortili del centro storico che ospitano una rassegna di vini di qualità dei migliori produttori nazionali, insieme ad assaggi e degustazioni di specialità gastronomiche della tradizione culinaria siciliana. Alla quattordicesima edizione di Inicon, organizzata dal comune, dalle cantine Sette Soli e dall'assessorato regionale all'agricoltura, hanno aderito 20 tra le migliori cantine siciliane. Pippo Previtera, anche quest'anno Slow Food, protagonista di Inicon? Sì, protagonista perché Inicon ormai è una delle manifestazioni consolidate nel patrimonio delle manifestazioni del vino in Sicilia. Slow Food è molto attenta al mondo del vino e a tutte le sue evoluzioni. Il vino sostiene, è sempre partner della biodiversità e sostiene tutte le iniziative di Slow Food, a maggior ragione non potevamo continuare a confermare il nostro appuntamento con Inicon. Un altro appuntamento fisso della manifestazione è rappresentato dai laboratori del gusto e dai presidi di Slow Food. È una vetrina molto importante perché permette alle persone di venire qui a Menfi e conoscere il territorio, che sicuramente non è solamente conosciuto per il vino, ma ha molte altre peculiarità come il mare, come artigianato locale, come il turismo. Grazie.